Tristezza di roba. Una lingua di Menelic. Allora, partiamo. Tu la lingua di Menelic, eh? Sì, è piena di colori. Certamente, la lingua di Menelic. Per Miriana, quindi, il suonaglio da bambino, visto che lavora con Vianello. Sì, e lui lo usa sempre. Prima della trasmissione sempre. Prima no, mi chiama così, provo, Miriana. Che bella coppia. Massimo, state spendendo fiato nel ridere. Ma, tra i domani abbastanza strane. B. B, cioè il mago. Il mago con il treno. Che cerca di fermare col pensiero. Del resto di magia tu te ne intendi, perché hai sempre colpito. E tu, per quanto riguarda il discorso del treno, ci vuoi provare? Vediamo che profilo viene fuori. Rimane il nostro massimo modugno. La. A. B. Lemental. È un modo di dire. Gorgonzola, se fossi in tema. No, non mi piace. Non ti piace il gorgonzola. La. La, anche tu per la mozzarella. A. Come? Ripeti? A. Ha riso, ha riso Brigitte Lielsen. Benissimo. La A. Miriana. Gorgonzola. Dunque, Miriana dice gorgonzola abbinando la mia persona al gorgonzola. Sì, sì. All'idea di un gorgonzola. Io credevo fosse per un problema di scarpe. Cuzzano. Eh, Massimo. Dimmi. No. Sei come Minni di Topolino o come Claudio Lippi. Cioè? Ah, sei equilibrata. Sei equilibrata, affidabile. Mata da Raul questa sua, questa indicazione. Scusami, sei proprio una gran bella donna. Davvero? Guarda. Un bel gorgonzola. Miriana. Eh? Per varietà di risposte. Per varietà di risposte. Per varietà di risposte. Per equilibrio di risposte. Per equilibrio di risposte. Sei anche tu praticamente. Che linguaggio. Che linguaggio. Grazie a te. Grazie Leonardo e grazie. Ciao. Benvenuti e buon anno. Ciao. Benvenuti a tutti. Ciao Claudio. Ecco, ci siamo scambiati le coppie. No, li abbiamo vicini. Dimmi. No, dici io. No, volevo avervi intanto per annunciare subito, poi ne parliamo nel corso di questo momento, un appuntamento per il canale 5 importantissimo. Importantissimo, vero. Noi siamo nello studio 14 qua vicino e martedì, appunto, 31 dicembre andremo in onda per quattro ore, pensate, con Pippo Franco abbiamo cantanti lirici, showgirl, 40 ragazze scatenatissime. Sono l'opposta io il programma. Vero, certo. Voi dite, vuoi scatenare con loro. Il mio corpo di ballo, insomma, tantissimi ospiti e anche tu. Sì, molti ospiti che sono qua. Se vuoi, sì, c'è un elenco. Sì, c'è un elenco. Anche tu. Lo posso leggere, lo leggo. Così lo ricordiamo tutti, io poi me lo ricordo a memoria, però è meglio che... Certo, c'è io. Allora, Paola Barale, ho già detto lei. Poi Beneditta Boccoli, Cristina D'Avena, Rosanna Fratello, Eva Grimaldi, Luana Ravignini, Luciana Torina. Luciana Torina. E poi un grande, un grande, un grande, per noi è un onore avere questo grande artista in questa serata. Dobbiamo dimenticarci l'ospite più gradito del nostro programma. Ma si può dire che abbiamo fatto questo spettacolo solo per lui, per questo grande ospite sarà presente. Carlo Sacchetti, che è un altro... Grande, grande. Pronto? Pronto? Oh, è là una voce squillante. Pronto? Sì, pronto. Nome. Simona. Qual è la frase aiutata e spero con fortuna da Pamela e Giorgio? Ma io provo. Certo, sono un milione e otto. Si citano degli animali. La nave partirà. Del pezzo. Sì. Dove non si sa. Sentivo. Sì, Demo. La figura dei cani che ho fatto fa. Ha! E allora, detto questo, noi vi ringraziamo. Ricordiamo il nostro appuntamento martedì 31 dicembre. 31 dicembre. Dallo studio 14 di Cinecittà, uno specialissimo sotto a chi tocca. Bene, voi so che andate a continuare le prove. Sono 12 balletti da fare. Allora, buon lavoro e ci vediamo. Vedeteci, grazie. Ciao a tutti.